il nostro posto ci ho messo un po' a capire cosa volevi dire forse è questo il problema stiamo dimenticando troppe cose ma come facevamo a stare qui così tanto tempo senza noiarci papà ci lasciava qui per ore ti ricordi quando hai finto di annegare per rimorchiare il bagnino peccato che lui non ci abbia filate di pezza l'unica cosa che abbiamo rimediato erano un sacco di schiaffi da papà no io ho rimediato un sacco di schiaffi da papà sempre preferito te non l'ho mai nascosto certo ti hai esclusa dall'eredità soltanto perché non si fidava di Raul e tu lo sai però tu non hai fatto niente per impedirlo ma perché non lo lasci perché sono sola non ho figli solo Raul non è vero hai una famiglia devi solo decidere da che parte stare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti